Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4! Ma quanto sono teneri questi quattro che dormono tutti qui vicini? Li adoro! Dunque ragazzi, oggi come avevo immaginato ci divideremo fra due famiglie perché innanzitutto è il giorno dell'amore che non ho rinominato San Valentino, ma va bene così poi è il compleanno di Diego, come potete vedere e Luna dovrebbe partorire in serata quindi sarà una giornata piena e ci divideremo fra questa famiglia e quella di Luna sono le 7.30 del mattino anche per quanto riguarda San Valentino vorrei festeggiarlo sia con questa coppia durante la giornata, una cosa semplice così perché sono indaffrati quindi il bambino con la festa da preparare e anche poi con Luna e Riccardo quindi i compiti da fare sono dedica un po' di tempo alla persona che ami o a quella di cui ti sta innamorando per partecipare esegui interazioni sociali romantiche come baciare, abbracciare e flertare oppure se ti va a fare fichi fichi dai fiori, per partecipare usa l'interazione acquista un regalo al telefono o al computer per comprare dei fiori seleziona quindi un sim e scegli dai il regalo e vai a un appuntamento porta fuori una persona speciale o invitane una che presto lo diventerà è la tradizione per partecipare clicca sul telefono seleziona chiedi un appuntamento scegli un altro sim e seleziona il luogo ecco questo credo che con loro non lo faremo perché abbiamo il complano di Diego da organizzare però è mattina il bimbo sta dormendo e Fabrizio potrebbe svegliare anche se si è svegliata prima lei la sua amata con un bel gesto romantico e chiedere di fare fichi fichi così, appena svegli visto che poi saranno impegnatissimi tutta la giornata ok, e questa la sta già completando i piccoli ancora dormono quindi perfetto vediamo un po' il meteo di oggi oggi è ventoso e freddo ciao, ti contatto per conto della Sunny come pesce vorremmo spedirti un campione gratuito del nostro nuovo prodotto gli auricolari bassi e fracassi se desideri acquistarne accettiamo ordini online tramite computer produciamo inoltre un tapirulani che simbola una partita rampicata e dei video di allenamenti per la tv mi raccomando, sempre in gamba sì, se ce li mandano ci fa piacere sono stati inseriti nell'inventario ok, perché magari possiamo anche venderli visto che qui siamo sempre in mancanza i soldi wow, i fuochi d'artificio allora, dopodiché il bimbo si è svegliato allora lo accudiamo allora lo allattiamo cioè per la festa Fabrizio va in bagno una cosa carina che ho notato giocando con loro è che ogni volta che Isabella accudisce il bambino il piccolo Red piange sembra geloso infatti lei di solito subito dopo dà attenzione anche a lui per non fargli mancare nulla allora fa una carezza Red e poi iniziamo a preparare la festa per ora per ora ho messo qualche decorazione questa ghirlanda floreale sul tavolino e questi festoni con i palloncini qui facciamo finta che ci sia scritto tanti auguri Diego il bimbo ancora piange allora Coccola ah no ci pensa il papà ci pensa il papà ok perfetto allora lei può andare in bagno poi si mangia qualcosina per colazione ragazzi spero di fare in tempo fare tutto sono arrivate anche le bollette ma siccome si dovranno trasferire stavo aspettando a pagarle allora non so cosa vuole questo bambino Coccoliamolo niente non si calma il pannolino è stato cambiato mangiato non smette più di piangere forse ora si ok 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 dopodiché Isabella vestiti si mette calda perché oggi fa freddino Fabrizio oggi deve andare al lavoro sì allora ci prendiamo la giornata altrimenti non riusciamo a festeggiare il compleanno quindi prenditi un giorno di vacanza ha lavorato sodo ultimamente dai possiamo anche permettercelo dopodiché Isabella si mette a cucinare una torta facciamo una torta bianca e poi potremmo preparare facciamo dei tramezzini per una festicciola pomeridiana direi che vanno bene allora Fabri come sei messo? devi esercitarti con la musica vabbè possiamo aspettare visto che sei in ferie devi terminarmi queste canzoni così magari riusciamo a vendere i diritti ah poi volevo fare ecco comprare i fiori per Isabella ma lo facciamo fra un pochino intanto magari complimentati per l'aspetto ragazzi loro mi si sono incantati non so cosa è successo ok ragazzi ecco qui la notifica il compleanno di Diego il tempo vola vero? e mentre Isabella ha finito di preparare tutto e Red sta assaggiando i tramezzini fa una ramazzina Fabrizio si come dire isola un momento per comprare un pensiero per Isabella e le compra una rosa così sia per festeggiare il San Valentino sia perché è stato il compleanno di Diego è una festa anche per la sua mamma ovviamente ok allora quindi prima dell'arrivo degli ospiti lui viene qui fa qualche altra interazione romantica prometti dedicare una canzone sicuramente dopo farà anche questo sia allettante e poi dai il regalo del giorno dell'amore dai che cosa carinissima mi sa che a lei non è piaciuto forse si aspettava un regalo più consistente ma dai è stata una cosa carinissima regalo non apprezzato ma no ma dai non me lo aspettavo da Isabella ma insomma dai dagli un bacio su poverino è stato così carino vabbè lui si mette a mangiare e io direi di invitare gli ospiti chissà se verranno perché siamo in orario lavorativo comunque facciamo la festa di compleanno tanto non abbiamo gli obiettivi e allora si è infesteggiato no non me lo fa scegliere no allora niente facciamo festa in casa padroni di casa loro tanto non abbiamo obiettivi quindi non è un problema invitiamo Maria no Alessandro non me lo fa invitare e vabbè ci provo dopo Valerio volevo invitare Giada non mi fa invitare neanche lei no ragazzi allora niente anziché fare l'evento facciamo così allora Valerio Maria probabilmente gli altri sono al lavoro vabbè ci provo da qui e vabbè pazienza ragazzi verranno solo la mamma e il fratello va bene intanto loro continuano a fare qualche interazione romantica ok così anche lei ha completato la tradizione e volevo mostrare il bimbo a Valerio che ancora non l'ha mai visto invece Maria era venuta a trovarci fai vedere no non me lo fa fare forse la culla è troppo incastrata allora lo spostiamo qui così lo facciamo passare di età davanti a tutti così c'è il suo striscione allora riproviamo fai vedere no non so come mai non riescono ragazzi va bene pazienza e lo facciamo passare di età mamma mia non vedo l'ora di vederlo adoro adoro vedere i neonati crescere e fai passare di età peccato che non ci sia il papà Diego è passato di età è un morettino ragazzi allora non possiamo mettere l'aspirazione dobbiamo scegliere un tratto per lui come bebé e ragazzi sono indecisa tra accattivante e scatenato ma io metterei scatenato così per andare a complicarci ancora di più la vita di questa famiglia già abbastanza precaria ok non vedo l'ora di vederlo da vicino è un morettino come il papà oddio gli occhi della mamma ragazzi ma che bello è no ma troppo ora farà i primi passettini ma è bellissimo mamma mia mamma mia ragazzi non ci posso credere eccolo qua ok che dite andiamo subito a vestirlo no ragazzi ma quanto è carino ma veramente troppo bellino che dite gli lasciamo questi capelli no così non mi piace sì li lascerei questi e vediamo come vestire questo bimbo scatenato allora ora andiamo incontro all'estate quindi come anche outfit da casa scegliamo qualcosa di estivo abbiamo tutte queste nuove cosine in mantello fantastico fantastico allora questa magliettina è molto carina sì io quasi quasi se no la polo vediamo abiti interi abbiamo tutte queste tutine anche la salopet carina Isabella da piccola aveva questa sì dai ragazzi gli mettiamo la salopet carinissimo tra l'altro è come i suoi occhietti e poi come scarpine gli mettiamo no questi sono tipo scarponcini mettiamoli magari questi che sono più estivi i sandaletti sì ma che carino è e i calzini no perché ha un sandalino e il cappellino ma dai sembra un tappistello e gli metto anche un outfit un po' più coprente perché in teoria oggi fa freschino in casa e avremmo anche la salopet versione lunga però no allora ecco per quando fa più freschetto lo vestiamo così eccolo qua con la feppetta poi abiti formali io direi questo e scarpine le mettiamo queste con delle rifiniture in blu ma che bello è troppo questa che carino ragazzi sto impazzendo e gli mettiamo i calzettini sì così da festa da festa da festa gli mettere questo con questa bandana e mettiamo mettiamo un ginsettino anche questo grigio sì e scarpe le mettiamo azzurrine ok poi costumino ora le abbiamo anche per i bebè e allora cioè abbiamo queste tutine direi questa anzi questo proprio un vestitino da mare visto che ora siamo anche in estate e ciabattine non ne abbiamo però abbiamo i sandaletti che anche per andare in spiaggia mettiamo questi e forse un cappellino un cappellino tipo questo arancione come i sandalini mamma mia quanto è carino ora lo dirò in continuazione era un po' che non avevo bebè quindi impazzisco e per il clima caldo gli metto questa mallettina un pantaloncino corto così e scarpine mettiamo sempre queste ok comunque stanno bene con l'arancio e clima freddo abbiamo questi cappottini adorabili altrimenti di nuovo questo no ma io mi sbizzarrisco con il cappottino allora sempre sull'azzurro visto che ha questi occhi e io gli metterei questo con le nuvolette e gli stivaletti da pioggia sì questi mamma mia bellissimo ok ragazzi ci siamo ho vestito così adesso perché a furente furia per la fame cominciamo bene comunque sì ora tranquillo mangiamo tutti la torta volevo togliere le candeline perché le ho messe giusto come decorazione poi prendi la porzione per Diego subitissimo guardate che birbante ah no si è preso il tramezzino va bene l'ha fatto da solo e chiama a tavola intanto piccolino fai amicizia con la nonna bravo già lo sta facendo ma quanto è carino comunque da questa famiglia continuano a uscire sempre figli splendidi veramente ora si mette sul divano parla un po' anche con lo zio ok ragazzi dopodiché non trova pace comunque dicevo ormai è il momento per Isabella e Fabrizio di trasferirsi perché non possono più stare in questa casa con un bebè non c'è veramente spazio per tutto l'occorrente ma ci penseremo la prossima volta devo ancora capire bene come organizzarmi come fare vedere se con i loro soldini con i loro mobili ce la fanno a trasferirsi magari in un appartamento più grande se avranno bisogno dell'aiuto dei genitori di lei a questo punto visto che è pomeriggio inoltrato direi trasferirci da Luna e Riccardo per festeggiare il San Valentino insieme a loro e poi aspettare il parto ragazzi non posso crederci ho sbagliato i conti mannaggia ero sicurissima di aver contato bene e invece purtroppo non è così quindi sono arrivata qui in questa famiglia e sorpresa è nata è nata la piccola Veronica così l'ha chiamata al gioco l'avrei voluta chiamare diversamente però dai ce la teniamo anche perché finché non è bebè non potrei cambiare nome perciò terremo questo solo che il cognome poi sarà Parisi quello del papà comunque eccola qui la piccolina una femminuccia vediamo portiamo qui la mamma anche perché sta piangendo oh eccola qua probabilmente ha fame mi sembra molto chiara di carnagione non so se poi si scurirà io come sempre non vedo l'ora di vederli da bebè ragazzi comunque visto che c'è già la piccolina i programmi che avevo in mente per San Valentino dovrò un po' modificarli perché non me la sento di lasciarla già ai nonni insomma appena nata quindi possiamo organizzare qualcosina qui in casa che dite ma che cucciola comunque ho già adattato una cameretta proprio così molto semplice ah manca il lampadario vabbè poi lo sistemerò dobbiamo cambiare il pannolino nel frattempo sono già le sette e mezza e allora ho pensato una cosa Riccardo sta già mangiando no allora guarda visto che Luna ha appena partorito non è nel caso di uscire né di far preparare a lei una cena e quindi ci pensa Riccardo ci pensa lui certo però volevo fare un appuntamento non so se possiamo averlo qui l'appuntamento ok ecco qua possiamo fare l'appuntamento a casa e allora lui si mette a preparare qualcosa di veloce potremmo fare lui non sa fare molte cose maccheroni al formaggio una pasta semplice si dai poi apparecchia con coparto sofisticato triangoli intanto Luna si va un po' a riposare lei non ha idea di quello che lui sta preparando si è fatto anche tardi ormai ok ora lui apparecchia carino questa apparecchiata ma si una cenetta romantica fra neogenitori perché si sa quando si è un bimbo piccolo non è che si può tanto uscire allora poi facciamo che lui chiama Luna e lei viene qua volevo prenderle un fiore anche per lei facciamo un tulipano facciamo che a lei piacciono di più i tulipani speriamo che lo apprezzi un pensierino allora ora le da il regalo lei sembra averlo apprezzato meno male poi facciamo qualche tieni la mano interazione flirtante ok nel frattempo gli sotto si stanno autogestendo allora prendiamo una porzione e continuiamo a flirtare a tavola allora complimenta l'aspetto manda un bacio adula poi devono comunque socializzare gioca a scacchi non credo proprio canta della festività giorno dell'amore lei comunque è stata contenta di questa cenetta anche se molto semplice ci voleva che carini ok abbiamo raggiunto l'obiettivo principale poi dovremmo giocare a scacchi ma no fare un massaggio questo potremmo farlo appena finita la cena allora magari si mettono un po' sul divano e lui le propone di fare un massaggio ci vuole ci vuole proprio sussurra smancerie amoreggia ah ok allora facciamo direttamente fai fichi fichi ok lasciamo lì privacy e vediamo questa piccolina cosa fa che carina sono contenta che sia una femminuccia in questo caso ok l'appuntamento è arrivato a livello oro possiamo anche terminarlo in anticipo abbiamo anche ricevuto un premio e dovrebbe essere andato bene anche questo giorno dell'amore ok ragazzi anche per questa puntata direi di salutarci qui ci vediamo la prossima con la crescita di Veronica non vedo l'ora di vederla comincerà anche l'estate sono curiosa di goderci questa nuova stagione e mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo siete già lasciatemi un commentino e un pollicino in su per farmi sapere che mi seguite seguitemi anche sui social soprattutto su instagram le cose insomma che dico sempre lo so sono noiosa io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto grazie a tutti